Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostro un nuovo prodotto che arriva da parte dell'azienda c'è Ecotec ed è il nuovo microonde del modello ProClean 9110 full inox, praticamente ha un microonde da 30 litri di capacità con grill, ha un design frontale con effetto a specchio e tecnologia 3D wave, in particolare diciamo che è abbastanza enorme come microonde, ha 8 programmi, può scongelare, può cucinare, può fare l'effetto grill, inoltre ha anche 1000 watt, quindi non consuma tantissimo ed è praticamente enorme, faccio vedere qui, c'è praticamente pesa 29 kg, però comunque adesso vi farò vedere all'interno come è fatto Guardate qui come è enorme, ha questo appunto acciaio inossidabile, guardate già la mia mano alla differenza poi ha tutti questi programmi e poi qui questo effetto specchio appunto richiama la tavola e ha praticamente questo sportello, appunto il microonde, dove al suo interno contiene il piatto rotatorio e poi anche la griglia per poter mettere appunto il pollo qua a fare l'effetto grill, guardate come è enorme all'interno, poi appunto per pulirlo non ci vuole niente e qui ha tutti i programmi preimpostati, comunque si possono impostare tutti i programmi per scongelare, fare l'effetto grill, la durata, ma anche il timer e tutto il resto poi andremo a vedere nel dettaglio che vi preparerò una ricetta direttamente dal microonde è davvero bello questo microonde, adesso vi lascio il sito qui sotto dove potete acquistarlo direttamente potete confrontarli con altri tipi di microondi, però comunque questo ritengo sia quello più potente appunto per le sue funzioni e poi vi farò vedere nel dettaglio tutti i programmi e tutte le sue funzioni e andremo a scoprire come si usa ringrazio l'azienda CECOTEC per questo fantastico microonde